Dopo l'impianto e la lavorazione ho fatto un'esperienza sul passante di Torino, passante ferroviario, poi ho visto che partivano i lavori dell'alta velocità sulla Torino-Milano, Torino-Novara-Novara-Milano. Quindi mi interessava fare ancora lavori ferroviari e quindi andai in impregilo, in quel caso, a fare il site manager del cantiere di Torino. Era l'interconnessione di Stura, lì avevamo un challenge che era il tempo. Noi dovevamo realizzare in un anno e mezzo quel tratto per far sì che tutto il tratto venisse completato in tempo, perché era l'interconnessione con le linee storiche, ma dovevamo attraversare tutti i siti da bonificare, l'Ex Siva, la zona Pirelli, tutta l'area periferica di Torino, dovevamo rifare gli svincoli di Settimo Torinese, la Cebrosa, l'Opera di Scavalco, Viabilità, il tutto in un periodo così breve. Lì ci organizziamo con maestranze nostre, anche appaltatori, e ci ritroviamo anche siti imprevisti, siti da bonificare, di scariche abusive. Abbiamo ripulito il territorio, almeno per dove passavamo noi, quindi abbiamo fatto il lavoro in tempi record. È stato forse un cantiere sottovalutato da questo punto di vista, non solo Settimo Torinese penso alla tratta. Devo dire che c'è stata anche una condivisione dell'obiettivo da tutti i punti di vista, dal cliente, dalla regione, ovviamente perché c'erano le impie di invernali nel 2006, bisognava completare l'evento, e gli eventi sono sempre di stimolo all'affare. Il mio cantiere che seguivo doveva essere il primo, e quindi lo completammo per un discorso di sequenze temporali, di realizzazione. Facemmo i salti di montoni e tre gallerie sovrapposte, con linee sovrapposte, molto complesse, tutti in cemento armato. Anche lì aneddoti di campo base. Io ne parlavo con l'ora sindaco, e dicevo, ma che ci faceva il campo? È un peccato, no, smontarlo. E oggi c'è la Croce Rossa Militare. Mi sembra che sia la più grossa area che gestisce la Croce Rossa Militare, ed è una soddisfazione vedere che ha uno scopo sociale, uno scopo. Insomma, fai il lavoro, però allo stesso tempo crei una ricaduta sul territorio. Quindi poi anche questa è la cosa che caratterizza anche il mio modo di vedere le cose. Quando dicevo prima, la condivisione col territorio nasce anche dal lasciare una traccia positiva. E poi anche durante l'esecuzione dei lavori. Noi, per esempio, bitumammo tutte le strade, le piste di cantiere per non creare polvere, fastidi o vibrazioni. Noi facevamo più di 200 chilometri di piste. Cioè, uno pensa alla ferrovia, ma abbiamo fatto tutta la viabilità, e anche viabilità temporanea. Quindi anche asfalto, bitume, diciamo, questo per alleviare problemi di polveri o di vibrazioni. Quindi poi tutti ripristinate. Da quell'esperienza poi ho seguito Pero, di tutta la penetrazione di Pero, di Cornareto. Ero da Pregnano fino a Certosa, insomma, in parallelo. Quindi chiudevo uno, dovevo riaprire l'altro. Quindi mi ritrovavo con la macchina ad andare avanti e dietro sulla torino Milano. E quindi seguo questo cantiere. E anche lì la sfida era finire prima degli altri. Cioè io dovevo entrare prima che la provincia e i miei amici che dovevano fare i lavori, che poi erano amici davvero, di altre imprese dovevano entrare nel territorio per fare i lavori stradali di raccordo di tutto l'ente fiere. E quindi la task mia era quella di finire prima. Quindi mandai, mi ricordo, 60 operai più due assistenti in capocantiere, alloggi provvisori e iniziai subito i lavori. Finimmo i lavori o comunque li portammo avanti prima che entrassero gli altri. Quindi senza creare interferenze con gli altri. Perché altrimenti ci sarebbe stata una sovrapposizione di attività nostre con quelle della lente fiere. Quindi questa cosa ci ha consentito di finire la tratta nei tempi e deviando anche l'A4 sulla tangenziale Est. Quindi tutti i problemi di traffico e di viabilità li abbiamo gestiti, diciamo, con obiettivi precisi. E questa è stata un'ulteriore esperienza per dire quando c'è un'organizzazione dietro. Lì c'è un'organizzazione fantastica, il Kaftomi, con il Plegilo. C'era Fiat Engineering Condotte, ma io ero in Plegilo in quel tempo. Effettivamente era un'organizzazione, una macchina, posso dire, da guerra. Però, come sempre, non basta avere dietro la macchina, ma devi essere anche consapevole del fatto che hai una responsabilità e che devi arrivare ad un obiettivo. Non bisogna avere paura, bisogna prendere decisioni e andare avanti. La consapevolezza è di fare del bene, cioè di essere serenamente, tra virgolette, diciamo, consapevole che le cose vanno fatte in quel modo. Però anche lì operai maestranze nostre, un grandissimo lavoro di squadra, di team, capocantiere, assistenti, anche con la committente, con RFI, dal FER. È stato un rapporto fantastico perché eravamo coordinati sull'obiettivo. Ognuno doveva andare e fare la propria parte. Ma questo è quando... così funzionano le macchine. Altrimenti non va bene. Quindi questa è stata un'esperienza importantissima perché capivo che se c'è dietro un'organizzazione è la volontà dell'azienda nel fare che mette i mezzi. Ma non solo, perché c'è da essere anche la committente o gli enti che devono essere positivamente predisposti, le cose si fanno. E i tempi sono sempre giusti. Se c'è un'opera che non va, che è abbandonata, vuol dire che c'è qualcosa che non è dato al meccanismo. E quindi bisogna lavorare sul perché. E ovviamente poi realizzi delle opere pubbliche. Quindi devono essere a beneficio delle persone, della comunità. Quindi sai che stai facendo un'opera, come posso dire, che vale per tutti, che è per tutti. Ed per me era un privilegio poterlo fare perché sapevo da una parte dell'importanza dell'opera ma sai pure che poi hai la possibilità di confrontarti col territorio, conoscere realtà industriali, locali di tipo diverso. Lì avevamo il supporto del nucleo operativo dei Carabinieri di Ro, avevamo queste interfacce con le istituzioni che funzionavano con la TAV. Era tutto un gioco di squadra che ci ha consentito di arrivare ad un obiettivo importante. Tant'è che oggi è fantastico vedere questi treni che passano. Io ricordo ogni metro. Io ci passo in questo periodo che vivo da queste parti e le guardo con un occhio, diciamo di soddisfazione. Perché dice, caspita abbiamo fatto una cosa fantastica, no? Ogni volta. E ogni volta non mi, devo dire, questo forse con l'età si diventa ripetitivo e il mio figlio dice, questo l'ho fatto io. C'è per esempio, quando vai verso Torino o verso Milano, c'è una passerella metallica pedonale, ciclopedonale, che facciamo col sindaco di Cornaredo, c'è questa trave forata, no? Che è l'unica che c'è lungo la tratta. E dice, ma magari, che dici? No, sì, la facciamo forata, perché così la sicurezza, così la gente si vede quando passa. E lì facciamo quest'opera, diciamo, ma lì c'è già un'opera di scavalco esistente, che serve sotto? Perché c'era, era previsto un sottopasso lì, con lo svincolo di Rho da quella parte. Ma questo avrebbe impattato i tempi, avrebbe creato un'opera inutile, un sottopasso quando c'era un cavalcavia vicino. Poi i sottopassi non sono sempre ben visti. Allora, io proposi di fare un'opera ciclopedonale. Dice, sì, però facciamo una trave forata, no? La facciamo una... viene con questi megafori. E alla fine, quindi, risparmiamo tempo, non solo perché poi quell'opera comunque andava fatta, abbiamo fatto comunque un'opera compensativa che è andata a migliorare l'assetto viabile che potesse servire alla gente, piuttosto che fare un'opera stradale che poi la gente non poteva utilizzare. Quindi creiamo una permeabilità aggiuntiva alla linea, quindi la gente da una parte per l'altra, semplicemente passando sopra l'autostrada. Quindi quando vedo questa trave ci penso spesso al fatto che devi pensare anche out of the box, come si dice, perché se tu hai un territorio favorevole che ti segue magari puoi anche, non dico inventarti, però pensare delle soluzioni che migliori in una situazione, no? Quindi l'infrastruttura a quel punto viene vista anche positivamente. Dice, vedi hanno fatto questo però ci hanno dato pure quest'altra roba.